Onestamente pensavo che Garzia non avrebbe ripetuto il successo di Spalletti, ma non pensavo che le cose potessero andare così. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti a Calcio d'Angolo dove parliamo di calcio ogni giorno. Quindi se sei un appassionato di calcio e in particolare la Serie A, iscriviti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato. La situazione a Napoli sta degenerando e sta degenerando velocissimamente. Una cosa che onestamente non mi aspettavo. Ho sempre detto e ho fatto video già in passato dicendo che la scelta di Rudy Garzia mi sembrava sbagliata. Mi sembrava non la scelta migliore per il Napoli per provare a bissare lo scudetto dell'anno precedente. È vero, Garzia gioca con 4-3, stesso modulo di Luciano Spalletti, ma le interpretazioni sono completamente differenti fra i due allenatori. Uno è un allenatore aggressivo che vuole avere il possesso palla e attaccare. L'altro è un allenatore decisamente più difensivista che ama non prendere gol e provare a segnare in contropiede. E Garzia onestamente ereditava una situazione molto complicata. Una squadra che vince lo scudetto, in particolare a Napoli, dove non succede proprio tutti i giorni, c'era il grande pericolo di una squadra che si sentisse appagata. Una squadra che non riuscisse a giocare con la stessa cattiveria degli anni precedenti, dell'anno in cui ha vinto lo scudetto. Ma per assurdo non è questo il problema principale di questo Napoli. Non ho l'impressione che il Napoli si sia seduto. Ho l'impressione che Garzia abbia voluto cambiare il Napoli e il risultato sia questo, ovvero deludente. Il Napoli è una squadra costruita, secondo me, per Luciano Spalletti, per un calcio offensivo, per un possesso palla e per provare a dominare la partita. Questo Napoli non è, secondo me, strutturato per Rudy Garzia, che invece vuole una difesa bassa, una difesa che non conceda niente e una squadra veloce a ripartire e prendere la squadra avversaria in contropiede. Questo non è il Napoli. Almeno questo non è il Napoli di Spalletti, poteva essere il Napoli di Benitez o qualche altro tipo di Napoli, ma questi giocatori hanno caratteristiche ben differenti da quelle che voleva Rudy Garzia. Ma non solo, perché io dicevo che Rudy Garzia non era un grande allenatore, ma poteva, secondo me, risultare vincente se fosse riuscito a motivare il gruppo. Perché una delle qualità di Rudy Garzia è quello di motivare la squadra. L'abbiamo visto alla Roma. Roma distrutta, Garzia riuscì a motivare il gruppo e tirare fuori, secondo me, qualcosa di più di quanto potesse fare quella squadra. Ecco. E invece mi sembra che Rudy Garzia sta fallendo anche da quel punto di vista. Il tecnico francese, infatti, non solo non sta riuscendo a motivare il gruppo, ma sta creando una frattura importante all'interno dello spogliatoio. Prima ci sono stati problemi con Kravashkega, che, ripeto, è un giocatore che non ha quelle caratteristiche di che se da Garzia. E la rottura con Kravashkega sembra importante. Non è la prima volta che il Giorgiano manda a quel paese Garzia. I due non si trovano e si vede sia in campo che fuori. Ma contro Bologna c'è stata anche la rottura importante contro Osimè. Osimè, se vogliamo, è il leader di questa squadra, non solo il bomber, ma anche il leader che sta trovando tante difficoltà con Garzia. Ha fallito il rigore, e questo è sicuramente colpa del giocatore, ma è una situazione di pareggio, una situazione in cui Napoli sta cercando di vincere tutto il tuo centramanti. È vero, magari non stava giocando benissimo, ma la storia ci insegna, il passato ci insegna che anche in partite in cui Osimè non stava facendo niente, sa trovare la giocata e decide il fine partita. Esempio, Napoli-Roma. Napoli che stava facendo difficoltà, Osimè che aveva fatto poco o niente, un pallone, un gol pazzesco, e ti decide la partita nel finale. Questi sono i campioni, quelli che sanno decidere la partita con una giocata, anche in partite dove non sta facendo poco o niente. E quindi togliere Osimè, soprattutto per mettere dentro Simeone, che è sicuramente un giocatore interessante, ma è un giocatore che non segna tanto, un giocatore che ovviamente non è allo stesso livello di Osimè. Ecco, Garzia ha detto, tanta qualità in panchina. Sì, ma non è che Simeone abbia dimostrato di essere al livello di Osimè. In una situazione in cui non stai vincendo e stai cercando di vincere, probabilmente non togli Osimè per mettere Simeone. Al massimo cambi, ed è quello che chiedeva Osimè, ovvero metti dentro Simeone e giochi con due punte. Anziché giocare con il tridente con due esterni larghi, cambi lo tridente e giochi con due punte centrali, due centravanti, Osimè e Simeone, così occupi l'aria e hai più chance di segnare. Ecco, secondo me in quel caso Garzia sbaglia sia dal punto di vista dello spogliatoio, perché toglie il tuo leader, che infatti si arrabbia e adesso dovrai gestire questa seccatura, e dal punto di vista tattico, perché secondo me, con il Bologna che si chiude, mettevi un'altra punta, un altro centravanti, hai molte più chance di segnare. Ecco, Garzia sta sbagliando sia dal punto di vista tattico che soprattutto dal punto di vista della gestione dello spogliatoio. Ecco, questo mi preoccupa tantissimo, perché già hai Karabascheglia che non ti ama. Se ti metti contro anche Osimè, rischi veramente di non arrivare a dicembre, rischi veramente di perdere il gruppo. Già Napoli si trova in una situazione, non dico disperata, ma sicuramente è indietro in classifica e Osimè e compagni sono sotto pressione. Ma chi è più sotto pressione? Garzia, perché era arrivato per sostituire Spalletti, per vincere la Champions League, era quello che gli chiedeva De Laurentiis, e la partenza invece è stata drammatica. È stata difficile, come forse qualcuno si poteva aspettare, ma soprattutto la gestione dello spogliatoio è quello che sta sorprendendo in negativo. E Garzia, che invece teoricamente era un maestro nella gestione dello spogliatoio, sta avendo tante difficoltà, difficoltà inaspettate, e il Napoli rischia veramente di colare a picco. e il Napoli rischia veramente di colare a picco. Grazie a tutti.